Il tessuto culturale molisano è ricco di particolarità da scoprire ma molto spesso passa inosservato anche per gli abitanti del posto. Proprio per questo motivo complice anche la concomitanza delle vacanze estive che apporterà un maggior numero di visitatori, la direzione regionale Musei Molise ha organizzato un'apertura straordinaria nella giornata di domani nei luoghi della cultura presenti in regione. Numerosi sono i luoghi di interesse nelle due province. Quella di Campobasso sarà possibile visitare in orario serale il Museo Sannitico del Capoluogo che ospita al suo interno reperti provenienti dal territorio dell'antico Samnium come il Museo della Città e del territorio di Sepino allestito all'interno di edifici rurali del Settecento. Spazio anche alle visite di mattina, questa volta però al Museo Palazzo Pistilli nel cuore del centro storico di Campobasso dove è allestita la collezione d'arte che Michele Praetano ha formato in oltre 50 anni di ricerca in Italia all'estero. Non solo musei però nella provincia di Campobasso che ospita al suo interno anche numerosi castelli culturalmente interessanti. Senza scomodare il sempiterno castello Monforte che sovrasta il capoluogo nella giornata di domani sarà possibile far visita al castello di Capo a gamba tesa di epoca medievale ma con un'ampia storia anche rinascimentale essendo stata la residenza della famiglia feudataria dei di Capo a partire dal XVI secolo. In mattinata ci sarà anche la possibilità di visitare il castello di Civitacampo Marano considerato uno dei più suggestivi della regione. Passando alla provincia di Isernia apertura serale per il Museo Nazionale del Paleolitico che si sviluppa attorno al giacimento di Isernia la Pineta che è considerato uno dei principali siti archeologici preistorici per la comprensione dei modi di vita e delle dinamiche di popolamento nell'area del Mediterraneo nel corso della preistoria. Ma ci sarà anche l'opportunità di visitare a Venafro il Museo Nazionale di Castello Pandone se si è interessate all'arte pittorica, il museo archeologico ospitato all'interno del monastero seicentesco di Santa Chiara ma anche il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno. Un'iniziativa ricca quella organizzata dall'ente locale che permetterà di scoprire o riscoprire un territorio che porta in dote numerosissime risorse storiche e culturali.